A Teramo, zona sismica 2, valore medio-alto, più dell'80% degli edifici scolastici, non risultava essere a norma tecnica antisismica già da settembre 2016. Lo denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca, che ha tenuto una conferenza stampa nella sede cittadina dei pentastellati per annunciare la richiesta di modifiche sul decreto scuole sicure. Purtroppo quella situazione disastrosa nel quale versano le scuole è conosciuta da anni, secondo i dati che gli stessi comuni hanno fornito e hanno dato al Ministero, sul sito scuole in chiaro, circa l'80% delle scuole a Teramo non è a norma antisismica. Questi sono dati che i comuni conoscono da anni, quindi i provvedimenti devono essere presi già da tempo e non si deve arrivare a questa situazione. Oggi purtroppo noi abbiamo quindi i nostri alunni che vanno in scuole che non sono a norma e che non sono sicure. È una situazione intollerabile alla quale bisogna dare delle risposte immediate. Bisogna fare un tavolo insieme alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti per trovare degli edifici idoni dove far frequentare i nostri alunni. E poi bisogna fare delle strategie ovviamente di medio e lungo periodo, di lungo termine. Quindi trovare risorse, fare una cabina di regia unica che abbia come obiettivo quello di mettere a norma tutti gli edifici pubblici, e in particolare gli edifici scolastici, quindi nell'arco di due o tre anni al massimo. L'incontro con l'On. Vacca è stato anche l'occasione per il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Teramo, Fabio Berardini, di sottolineare alcune deficienze nella comunicazione da parte dell'amministrazione in caso di emergenza nei confronti della popolazione e per chiedere un incontro pubblico sui costi del polo scolastico a Piano Daccio.